Per me è stato veramente un disagio nel momento in cui sono un lavoratore che fa circa 130-140 km al giorno e mi sono trovato da un tot di spese in un mese a un tot molto più elevato. Io ricevo un rimborso spese, il rimborso spese resta uguale ma la benzina comunque è aumentata quindi di conseguenza vado a stringere la cinta. Non so cosa dire, non ci possiamo fare nulla, non lo so, ci rassegniamo come sempre. E certo sono preoccupato, andando così non so a che punto andiamo a finire, perché se ci blocca, se mi bloccano, ho perso il lavoro. Non solo per il lavoro, anche per l'energia a casa, arriva il gas che questo mese mi è arrivato 800 euro di bolletta. Purtroppo il prezzo del carburante è salito alle stelle e ne stiamo risentendo parecchio in quanto la gente non si muove più come prima. Faccio due conti, io faccio 60.000 km all'anno in auto e quindi questo è un costo che si ripercuote pesantemente sulle mie finanze. Penso anche alla incidenza di questo incredibile aumento su generi alimentari, sui trasporti in generale.